un po' di formaggio? non ho qualche dubbio ma insomma non è mia una foto eh? eh non so tra le foto della mattina fino a lì guardito guardate qualcosa non è vero non lo sapevo ti sei chiesto ti sei chiesto guarda resisto sono chiesto guarda Luca lo zembino di Carla Francis prendete le ponte guarda le fanno patine no ragazzi ma non so se si vede perché è ben fuori scuro si che è scuro perché è scuro te lo vede niente a casermi no perché non è morto è morto adesso come si fa? butto un taro? pollice pollice sì sì è subito di più sì no 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 allora prima partiamo con sinistro adesso è rica con l'altro no 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 qui è che vi ha espanato delle marce salva con la sua marce no 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 1.99 stop no 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 ...2006... ...2006... ...2006... ...questa è la sfumatura... ...questa è la peccolina sarda... ...questa è la peccolina... ...un po' mio, un po' mio... ...un po' mio ripeto la peccolina! ...un po' mio ripeto! ...en mezzo piccolissimo... ...che ti catture con la riccia, con il narro? ...con il sangue... ...si, si, le robe che ti imparano sono dopo che ti ho provato io... ...e adesso quando ti fanno mangiare... ...dico... ...caro, cosa vuoi... ...dipo di... ...savuto... Che cazzo buonissimo! Che cazzo buonissimo! Eh, questo è! Se no, fatelo! Allora, girete, girete, girete! Dai, girete, girete! Aspetta! Ma dovessi ingiusto? Guarda! E' passato! Adesso è della Val d'Aosta e adesso è Salto! Della isla, eh! No, è buono! E' buono! E' buono! E' un po' dolce! No, che nasce nel sud! Nord-Africa! Non è dolce, dolce! Adesso ora dico Nasce in Ushuaia, il Terun Massa sul del mondo! Frisa ora o sfisa ora? E cosa vuoi che vuoi cercare? Gnocco della pazza! Vedi Puff! Da che parte è lo italiano? Adesso la partiamo bene! Fonetica! Fonetica! Ma che non ti ammertà, che ne fai? Quei figli! E' buoncata! E' buoncata! E' buoncata! Gnocca! Gnocco! 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 Fonetica! Gnocchi! Gnocchi! Ciccion, grumo, pelottiglie! Pelottiglia? La pelottigna rende molto di più che grumo Però sopra un grumo Però a me da pelottigna Pelottigna Mi seguito Panata, mi seguito Nicola, mi seguito Mi seguito se parlo Allora io ad Alberto Proporrei Un'orgia La Giovanna La Triana La Triana Proporrei non un brindisi Ma un'orgia Ma un brindisino Brindisino La 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 Brindisino La 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 Brindisino La 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 Uva Ciao Alberto Ciao Alberto E Giovanna Saluti Giovanna Ciao Ciao! 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 Hai visto il nuovo taglio di Paolo? Ciao Valeria! Ciao Valeria! Ciao Valeria! Ciao Valeria! Ciao Valeria! Ciao Valeria! Se polmiare se è perfetto! Ho vinto! Guarda! Non se polmiare se è perfetto! I stronzi si però! Ciao Valeria! Ho rifatto il cassino? Eh! Se no lui è tutto precisino eh! Adesso quando... Precisi... Precisi... La 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 la... Precisi... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Peccato che sia Maricò! Sì, brava! Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Bravo! 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 E' partito! Para bagnarte! Si! Quando mattina da 4 minuti... A 4 minuti! A 4 minuti? A 2 minuti! Ah di 4 minuti!! Metti la retromarcia! Allora, non c'è anche il tuo nome. Dai, non c'è anche il tuo nome. Dai che fai il puto. Dai che fai il puto. Fai il puto, bocino. Mi sento pesa. Non è bello, però. Mi è ancora il pilastro, vai. Si sa che non è presto stasera. Eh, beh, si vede, però. Non ne metri, no vedi. Non ne metri. Allora, dai. Wow. Bravi. 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 Vedi sedici, sedici. Vedi sedici. Vedi te che ti arrabbi a raggi. Vedi. Anche per la piantanza. Oh, la salta un po' lì. Se si, è un po' lì. Questa è quella. Questo non mi ricordava. Il vendatore di polla. E' dei cojones. Ah, mirà. Claro, è sobre cartone. Ma quel cartone è? Non pinta più sobre cartone, è tutto sobre la tela. Quindi questo vale più, perché è raro ora. Un business.